Musica Le terre dei Varano di Camerino si presentano, illustrando ogni particolare della denza tre giorni dell'ultimo fine settimana di giugno, culminante nella maratona tricolore valida quale campionato italiano Gran Fondo Federciclismo e campionato italiano Interforze per l'organizzazione dell'Avis Frecce Azzurre. Nella sala consigliare municipale la conferenza stampa focalizza i valori e le finalità del complesso e ramificato quindicesimo evento strutturato sul gioco sinergico del partenariato. L'arco del ricco programma della Vernice si apre con il saluto della Regione Marche portato dalla consigliera Anna Menghi. Si sviluppa attraverso i mirati interventi degli ospiti e relatori in sala, si arricchisce dei collegamenti audio-video con Giulio Pelizzari, protagonista al Giro d'Italia e con il tenente colonnello Antonio D'Urso, capo politiche dello sport, stato maggiore della difesa. Taglia il traguardo con la consegna ai promotori del libro di Ettore Baldetti, ipotesi sull'originaria via Flaminia, ad attestare l'ampio respiro del progetto sugli itinerari dello spirito della storia di Ruote Cultura. Camerino, Terre dei Varano, Avis, Frecce, Azzurre, Camerino a bersaglio tutto l'anno, in particolare a fine giugno. Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 giugno, conferenza stampa di presentazione. Francesco Iaiani, il presidente, il maratoneta per il grande impegno e l'attenzione ai particolari che fanno sempre la differenza. Beh sì, diciamo che la differenza si fa sempre nei dettagli, noi siamo particolarmente attenti a curarne ogni aspetto. Come sempre partiamo da lontano perché ogni anno noi ci fermiamo un mese dopo la manifestazione e poi riprendiamo subito per l'edizione successiva. Per cui arriviamo già pronti per quello che sarà l'edizione, la quindicesima edizione del 2024. Oramai gli obiettivi che ci poniamo, che sono quelli di accoglienza, che sono quelli di stimolare ciclisti che vengono fuori regione a partecipare alla nostra manifestazione, possiamo considerarli già raggiunti in quanto le strutture sono tutte piene da fine aprile. Quindi quello che era il nostro intento lo possiamo già comunicare, dichiarare come acquisito. Adesso lavoriamo, come dire, sull'eccellenza. Lavoriamo sullo spostare ancora avanti gli obiettivi alzando ancora di più l'asticella. Dopo i calori, i sapori, l'entusiasmo delle terre di Varano off-road. Sì, esattamente. Il 12 di maggio abbiamo chiuso il primo capitolo della nostra saga, se vogliamo così chiamarla, quindi di quelle che sono le esperienze in bicicletta. Abbiamo cominciato con l'off-road, che è andata benissimo, con soddisfazione massima che ci è stata rappresentata da tutti i partecipanti. E quindi questo è il nostro scopo. Abbiamo avuto pernottamenti anche per la mountain bike per la prima volta. Quindi dopo anni, questa era la quinta edizione, dopo che ci abbiamo lavorato da diversi anni, siamo riusciti a far arrivare i primi pernottamenti anche per l'off-road. Quindi il nostro scopo è esattamente questo, aiutare il territorio attraverso il cicloturismo, presentando un'esperienza a coloro che vengono adeguata, così da lasciare un segno e colpirli a tal punto che l'anno successivo magari pensano di ritornare. Il professor Andrea Spaterna e i Monti Azzurri, i Leopardiani, i Sibillini, il Parco, i suoi valori, gli obiettivi da raggiungere, la realtà da difendere? Gli obiettivi da raggiungere sono sicuramente quelli di continuare sulla strada della tutela e della conservazione che da 30 anni caratterizza il nostro Parco Nazionale dei Monti Sibillini e che ha consentito lo sviluppo di una biodiversità tra le più importanti del nostro Paese. Su questo dovremo continuare ad impegnarci ancora molto, chiaramente tutela e conservazione che devono tenere conto anche delle istanze, delle comunità locali, di rilancio economico e sociale, che non possiamo mortificare ma che dobbiamo supportare in tutte le maniere. Il professor Filippo Maggi qui rappresenta l'Unicam Università di Camerino e sottolinea il legame stretto con la realtà che promuove la manifestazione Avis Frecce Azzurre di Camerino. Sì, non c'è dubbio che è una manifestazione del genere che incentiva allo sport e non solo, al turismo, alla promozione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente che offre quest'area. Sicuramente non possiamo non promuoverla con tutte le nostre forze, con tutto quello che possiamo offrire di supporto all'organizzazione. È una manifestazione che evoca nomi importanti, la famiglia di Davarano, una famiglia antica che ha governato questo territorio per 300 anni, dal XIV al XVIII secolo, e che ha reso anche possibile che questo territorio così aspero, così difficilmente raggiungibile, possa essere oggi sede di un'università antica ma che guarda il futuro, che è volano di sviluppo del territorio, da diversi punti di vista, economico, tecnologico, scientifico e anche sociale. Quindi, soprattutto in un periodo di ripresa, un periodo di resilienza, dobbiamo dire, una parola che va molto di moda in questo periodo, una manifestazione del genere contribuisce a non mollare, a far sì che questo territorio possa risollevarsi da diversi ambiti. Lino Secchi, Feder Ciclismo, marchigiana, nazionale e internazionale, aggiungiamo, felice di essere qui. Perché? Perché intanto si ripete l'organizzazione di una manifestazione, quella della Gran Fondo di Terre di Varano, che ha assunto questa dimensione nazionale ma di partecipazione internazionale grazie alla tensione organizzativa, allo studio dei particolari dal punto di vista della partecipazione per quanto riguarda anche la scelta di percorsi e anche la selezione dei partecipanti. Il fatto che sia gara d'invito, come diceva il Presidente Francesco Iagliani, a cui faccio i complimenti, come ha condotto anche questo pomeriggio, questo evento, in questo pomeriggio di presentazione della manifestazione, è una scelta che deve essere conforme ai crismi e alle regole che la Federazione Ciclistica sia data e che vuole applicati come regolamento particolare di gara anche nelle gare amatoriali. Poi questo riconoscimento per due anni, il secondo anno consecutivo del campionato italiano Gran Fondo, che non è una cosa scontata, è una cosa data anche per la grandezza e l'interesse che hanno di portare avanti l'organizzazione in modo perfetto, curando tutti i primi particolari. Luca Panichi, lo scalatore in carrozzina, atleta a 360 gradi, lunghissimo la sua storia, eccellentissima, la sua capacità reattiva, il genio, la regolatezza, la capacità di reagire, testimonial di Camerino, nel genio della memoria, del tantissimo vissuto dato. Beh, innanzitutto nel vissuto c'è l'emozione e la gratificazione di ritrovarti come intervistatore e speaker, condivisore di valori, no? Era da un po' di tempo che non ci ritrovavamo, quindi per me, averti ritrovato oggi qui alla presentazione della Gran Fondo Terre di Varano, è stato un po' recuperare anche tutta la narrazione condivisa che rimane dentro il cuore. E chiaramente, dentro questo contesto, noi possiamo veramente misurare, anche sul livello degli organizzatori, di coloro che danno una mano agli organizzatori, quanto sia importante la consapevolezza e la forza di remare tutti insieme, non per raggiungere dei numeri statistici, ma per infondere e per recuperare anche uno spirito collettivo di Camerino che si merita di recuperare a fronte dei gap istituzionali, insomma generali, dei governi sulla questione del terremoto. E quindi, quando una realtà come Camerino riesce a realizzare un contenitore nel quale c'è un cocktail di valori e di motivazioni nel quale molte persone si riconoscono, allora possiamo dire che qui c'è un lavoro importante che viene da lontano e che non a caso a suo tempo aveva visto il nostro grande Michele Scarponi come testimonial appunto della Terre di Varano dei Valori. Quindi io sono sempre onorato nel continuare questo percorso per allargare le maglie, per far sì che le energie di vita possano diventare sempre più potenti nel momento in cui si mette un piedo a terra dal proprio egocentrismo e si fa un salto di qualità nei percorsi partecipativi. E la Gran Fondo Terre di Varano quest'anno ha indirizzato più elementi, l'aspetto agonistico, l'aspetto cicloturistico, l'aspetto di convivialità e anche lo sguardo alle persone con disabilità. E sarà un percorso che crescerà sempre di più. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!